I toti sono arrivati e quest'anno sono spumeggianti. Se ti servono crediti acquista su IG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Oggi ragazzi è un episodio storico perché andiamo a vedere il calendario, andiamo a giocare con la Fiorentina, poi abbiamo l'Inter, poi abbiamo il Cagliari, poi abbiamo il Torino, che comunque saranno i prossimi due episodi. E poi avremo finito la prima stagione con il nostro Sassuolo. Sappiamo benissimo che possiamo ancora arrivare in Champions League, dobbiamo però fare tantissimi punti. Ce ne rimangono solamente 12 a disposizione e in questo momento la classifica ci sorride, ci sorride tantissimo. Siamo a pari punti con l'Inter, siamo a più due sul Torino, andiamo a frontare tutte e due, quindi dipende solo il suo elemento da noi. Saremo abbastanza bravi per riuscire a portare a casa qualche punto importante? Io ragazzi ci credo, i titolari sono tutti carichi, con Niang e Kishina pronti ad entrare come al solito a dare il loro contributo e sappiamo benissimo che sono pericolosissimi quando entrano dalla paranchina a partita in corso. Belotti è carico, Berardi non è mai stato così in forma. Ragazzi ci possiamo solamente rivertire contro questa Fiorentina. Sono abbastanza teso perché in queste quattro partite ci giochiamo tutta la stagione, tutto quello che abbiamo fatto di buono o di cattivo durante questa prima stagione sulla panchina del Sassuolo viene decisa in queste 12 partite. Non sarà facile, non sarà per niente facile. Belotti si appoggia a Don Sa, l'uomo che ha dato una marcia in più il nostro centrocampo. E poi c'è Kishina, Berardi è partito, Kishina ha servito, Berardi subito! Il gol di Bimbo, il gol del capitano, il gol del DS ci porta in vantaggio dopo 5 minuti con la Fiorentina. Kishina lo vede, Kishina lo serve, queste due parlano la stessa lingua calcistica. Kishina vede Berardi, lo serve, sul mancino non può sbagliare, infila al portiere, 1-0 sulla Fiorentina. Tre punti pesantissimi! Però bisogna farli, bisogna farli prima. Calabria si appoggia a Berardi e poi parte Calabria, allora Berardi lo serve con un gran pallone. Calabria è un uomo più avanzato, arriva Belotti di tutta corsa, Calabria prova a servirlo Belotti! Non ci arriva di testa, ma sarà calcio d'angolo. Don Sa dalla bandierina, ormai sono tutti i suoi piazzati, non ho ancora capito perché. Pellegrini la stoppa, serve Kishina, Kishina ancora lui, ce l'ha sul mancino, non riesce a tirare. Rugani allarga su Calabria, Calabria da Don Sa, Don Sa si gira molto bene sulla fascia, Don Sa ancora lui, Don Sa la mantiene. Serve Calabria, Calabria la mette per Mimmo di testa, non riesce a spezzare. Guardate la classifica live, l'Inter comunque sta vincendo perché ha 64 punti, proprio come noi. Ma noi dobbiamo portare a casa i nostri tre punti perché la prossima è proprio contro Nerazzurri. Kalinic dentro, il tiro! Era gol, ma era anche calcio di rigore. Calcio di rigore. Devo imparare a stare zitto, devo imparare a farmi gli affaracci miei perché finisce male se no. Finisce veramente male. Stiamo dando tantissimi rigori agli avversari, questa volta c'è ma non dipende da me, ha fatto tutto il computer. Ma Gigio Donnarumma è un pararigori, Ilicic ne ha già sbagliati un paio quest'anno. Uno anche proprio contro Donnarumma, sul palo, Ilicic! Palo e gol, palo e gol, 1-1. Ma abbiamo tantissimo tempo a nostra disposizione ancora per cercare di rimediare a questa cosa che io non volevo assolutamente. Avevamo giocato solo noi ragazzi, avevamo fatto un tiki-tac, un pressing incredibile. Eravamo andati in vantaggio meritatamente e poi loro rigore e riaprono la gara così. Sturaro, Sturaro va da Berardi, largo. E allora Mimmo può partire. Mimmo contro Tomovic e Tomovic è costretto al fallo. Vede Berardi in posizione trequartista. Calabria riservito, va sul fondo Calabria dopo tantissimi scambi con i compagni. E non mette un gran cross però Calabria. Attenzione perché Sturaro copre un gran pallone. Adesso l'hanno più avanzato. Sturaro ancora lui, vede Berardi, largo. Loro lo serve. Attenzione ancora Berardi. Berardi vuole saltare il marcatore. Sempre Berardi, Berardi vuole mettere il cross, non ce l'ha fatto. Cata da Toledo, De Sciglio. Belotti si appoggia a Kisina. È partito Berardi. Attenzione perché si stacca Sturaro. Vuole andare Sturaro per andare in vantaggio anche alla fine del primo tempo. Sturaro, Sturaro, Sturaro la palla parata. Non ci credo, aveva tirato anche bene Stefano. E adesso Berardi può andare. Berardi vuole servire Belotti per l'1-2. Belotti glielo ridà puntuale. C'è Berardi, c'è Berardi. Tomovic ha molto più fisico però. Ok, è un'ora di gioco. È il momento di fare i nostri cambi come al solito. Kisina di solito è quello che ci molla prima. Mettiamo dentro Piazza e poi anche Niang fra un po'. Belotti, Pellegrini. Attenzione perché si apre De Sciglio. E se va De Sciglio sappiamo che spinge fino alla fine. Belotti, attenzione, messo giù. De Sciglio la ruba. Piazza la ridà De Sciglio. De Sciglio, sempre De Sciglio. De Sciglio la mette per Piazza che non ci arriva. Non me la sentivo di tirare col sinistro con De Sciglio. Purtroppo Belotti in questa partita non si è visto mai. Non si è visto. Berotti o è un fenomeno o non si vede praticamente. Togliamo anche Pellegrini e mettiamo Nuguri. E anche Niang. Ragazzi è l'ottantesimo. Dobbiamo spingere un pelo di più perché se no non la portiamo a casa questa vittoria. Teio va sul fondo. Ancora Teio. Salta un altro difensore. Adesso c'è Ilicic. Rugani deve inseguire. Ragazzi siamo in balia di Ilicic. Siamo in balia di Ilicic. Ma Calabria con una diagonale incredibile gliela strappa. Niang. Berardi. Dentro per Piazza. Adesso Piazza può partire. Piazza che è fresco. Piazza contro tutti. La perde. Attenzione perché Nuguri capisce tutto. Toglie la ruba. C'è Mbaie Niang. Niang. Largo per Piazza. Dove può partire? Largo a sinistra. La sua posizione preferita. Ancora Piazza. Ha preso il tempo a tutti. Piazza la mette dietro. Per Niang. La parata a Nuguri non ci arriva. Non ci credo. Clamoroso al novantesimo nel recupero. Ormai facciamo gol. Ma adesso c'è un contropiede ancora più pericoloso della Fiorentina. Finisce qui. 1-1. Una partita bellissima. Purtroppo non abbiamo portato a casa i tre punti. Attenzione ragazzi perché l'Inter ha perso. L'Inter ha perso. L'Inter ha perso e noi siamo davanti di un punto. Adesso andiamo a sfidare proprio Nerazzurri ragazzi. E' incredibile quello che è successo. In questo delicatissimo momento della stagione siamo in Champions League. Il prossimo anno, dovesse finire così, giocheremo in UEFA Champions League. Ma dobbiamo assolutamente portare a casa dei punti contro l'Inter. Assolutamente. Ma cosa stai dicendo Mimmo? Ma cosa stai dicendo Mimmo? Ma questo è clamoroso Berardi. Io ti avevo accontentato, ti avevo dato anche di più. No, 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 no. Dai ragazzi, cioè non possono succedermi queste cose. Non può andarmi via Berardi. Non può andar via così Berardi. Non può andar via così Berardi. Si sente troppo importante per la squadra. Ma io ti tiro un pugno come Carletto Mazzoni. Io ti inseguo per il campo. Sei una merda. Perché io ti ho tenuto. Potevo prendere Royce e ho tenuto te. Andiamo a frontare l'Inter con un morale sotto i piedi. Anche se dovrebbe essere il contrario. Perché ci sta andando tutto bene. Ma Berardi proprio adesso dovevi far vedere una cosa del genere. Cioè sei il mio capitano Mimmo. Sei il mio capitano. Tutti dipendono da te. Tutti dipendono dalle tue labbra. E tu vai a dire una cosa del genere. Ma stiamo scherzando diciamo davvero. Guardate che bella la classifica. Così è proprio bellissima la classifica. Ma però c'è anche la Roma che sta inseguendo. Sta andando forte. Ci siamo svegliati tutti nell'ultima parte del campionato. Ma dipende tutto da noi. Dipende veramente tutto da noi. A San Siro. Ci si gioca la Champions. Chisna vede Berardi. Berardi dentro per Belotti. Anche se si sente troppo importante per la squadra. Gioca comunque con noi. Mercenario dentro per Berardi. Berardi va da Belotti. Il 9 e il 10. Che ci hanno fatto tanto godere nella seconda parte di stagione. Ancora Berardi. Sempre Berardi. Ancora Berardi. Vede il taglio di Pellegrini. Pellegrini il tiro alto sopra la traversa. Belotti queste sono le tue partite. Questi sono i big match. Eccolo qui Belotti che vuole andare a pressare su Santon. Dà una mano anche in difesa. Pellegrini la ruba a Joao Mario. E poi ripartiamo dove c'è Belotti. Di prima da Berardi. Berardi salta ai marcatori. Ancora Berardi. Sempre Berardi. Salta Miranda. E poi dentro da Belotti. Belotti arriva di corsa. Belotti. Il tiro di Belotti. E c'è il gol del gallo Belotti. Mi fa sempre godere il gallo Belotti. I big match li sblocca. Sempre lui. Li risolve. Sempre lui. Segna. Sempre lui. Sempre. Su asset di Berardi. E questa è una cosa che mi dispiace. Perché non potrà più succedere. Ma per adesso godiamoci. Il gol del gallo Belotti. Guardatelo. Come buca Samira Andanovic. Che non la prende. In sacca. 1-0 San Siro. Per adesso. Per il Sassuolo. E ui facciamo il sling. Attenzione Icardi. Rugani la porta via. Rugani è veramente fortissimo. Mi segue nelle carriere dall'anno scorso. Il mio fedelissimo Rugani. Non mi tradirebbe mai. Chisna. Ancora Chisna. Vede Belotti. Cerca di riservirlo. Belotti. Bruttissima. Palla persa da Belotti. Quanto pressano i nostri centrocampisti ragazzi. Quanto pressano. Infatti mi dispiace non avere Sturaro a titolo definitivo. Cercheremo di strapparlo alla Juve insieme a Piazza. Per la prossima stagione. Scende Santon. Ancora Santon. Mette la palla dentro. Banega. Alto sopra la traversa. Ancora una volta. Trattore Don Sa. Guardatelo. Perisic ci incazza. E dice che non può sempre vincere Don Sa. Non può sempre andare via lui. E prende il giallo. E Don Sa gli va a chiedere. Oh perché? Perché mi hai picchiato? Perché? Dentro da Chisna. Chisna prova a saltare il difensore. Ce la fa. Chisna va sul fondo. La mette. Dove arriva di tutta corsa Berardi. Belotti la recupera a limite dell'area. Pellegrini. Attenzione c'è Chisna. Il tiro di Chisna con il suo piede debole si vede. Mamma mia che bella palla per De Sciglio. De Sciglio se la porta avanti addirittura con la testa. De Sciglio. È diventato un mostro. È diventato fortissimo il mio Mattia De Sciglio. Poi la perde perché comunque è un terzino non un'ala. Non riusciamo a rubargiela. Gliela ruba però Don Sa. A Don Sa non si dice mai di no. E poi Chisna va ripartire Belotti. C'è Berardi. Belotti vuole andare dietro la difesa. Dietro Murillo. Belotti non riesce con il fisico. Allora lo serviamo. Berardi va sul fondo. Attenzione perché Sturaro ci butta dentro. Allora lo serviamo. Sturaro. 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 Mamma mia. C'è il gol di Stefano Sturaro. Per il 2-0. Per la partita più importante dell'anno in questo momento. Dove ci si gioca tutto. Segnano che Stefano Sturaro. Ma Berardi ancora una volta è l'uomo assist. È sempre lui l'uomo assist. È sempre lui. È sempre il nostro numero 10. È sempre Mimmo Berardi. Che ha fatto una stagione straordinaria. E mi dispiacerebbe tanto perderlo sul serio. Direi di dargli anche la meritata standing ovation. Dopo due assist perfetti. Facciamo entrare... Anzi no. Mettiamo dentro Nyang. Perché abbiamo messo piazza dentro prima. E ancora una volta. Noguri per perlegrini. Perché quando vinco voglio tenere il centrocampo fisico. Allora Berardi insegue. Berardi la va a recuperare. Berardi la prende. E poi la riperdiamo. Ma c'è ancora Berardi lì. Che non riesce a fare il miracolo. Attenzione. Ancora Inter. Il tiro dell'Inter. Fuori. Talabria. Dentro. Da Noguri. Noguri vuole andare da Nyang largo. Nyang la protegge sempre. Nyang fa sempre un lavoro perfetto e preziosissimo. Ancora Nyang. Sempre Nyang. 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 All'indietro. Da Noguri. Che la stoppa. E il tiro di Noguri. Il gol dell'ex per il 3 a 0. E non esulta. Non esulta. Cos'è? Rispetto per l'Inter. Noguri ha fatto un gol incredibile. Ma che lavoro ha fatto Nyang. Stop. Tiro. Da fuori area. Nel set. Andanovic la guarda. E sono tre pere. Tre pere. Per andare in Champions. Mamma mia Noguri. Guarda. Guarda che bello. Belotti. Esci. Entra piazza. Piazza e Nyang. Per il finale. Ma ormai è standing ovation per il Sassuolo. Joao Mario. Sempre Joao Mario. In area Joao Mario. La mette. Mamma mia Donnarumma che cos'hai parato. Mamma mia che miracolo di Gigio Donnarumma. Doppio miracolo di Gigio. La palla però ancora nei giocatori dell'Inter. Si girano. E però è rimessa laterale. Turaro. Ancora Turaro. Turaro allarga dove c'è Kishina. Si meriterebbe la rete anche lui. Ma 4 a 0 forse è eccessivo. Ancora Kishina. Questa volta è entrato in area. E beh beh. Messo giù. Ma come? Ma come? Era rigore clamoroso. Gnoguri. La stoppa. Il tiro ancora di Gnoguri. Sento già i tifosi che esultano. 3 a 0 a San Siro. Battiamo anche l'Inter. E adesso ragazzi. Mancano due partite alla fine del campionato. E siamo più 4 dall'Inter. La prossima vittoria potrebbe garantirci la Champions matematica. Bene ragazzi. Io direi che possiamo concludere qui l'episodio. Sono soddisfattissimo. E andiamo a salutare l'ultimo like su Instagram. Già. Perché Berardi si rifiuta di rinnovare? Perché? Passate comunque qui sotto in descrizione. Dove troverete tutti i link ai miei social network e seguitemi dovunque. L'ultimo like è di Abatangelo Alessio con lo stemma della Samp. E quindi io ti saluto e ti ringrazio per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Anche se quest'anno siamo di Sassuolo. Ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così. Pugni di pollici a go go. E comunque siamo lì. Siamo lì. Stiamo finendo la carriera. E quindi iniziate a scrivervi magari anche qualche nome per il prossimo anno. Buongiorno. Grazie a tutti.